Buongiorno, sono Giampaolo Pasolini dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento una splendida Audi TT, veramente rara perché si presenta col motore 2000 turbo diesel da 170 cavalli, 4 cilindri, trazione integrale 4, cambio automatico sequenziale S-Tronic. Questa vettura è recentissima, infatti è stata immatricolata nel giugno 2013 ed ha percorso solamente 31.000 chilometri naturalmente originalissimi, con libretto delle manutenzioni, una manutenzione eseguita in Audi a circa 20.000 chilometri. Vettura mai sinistrata, devo dire che si presenta veramente in tonsa in tutto e per tutto. Molto completa perché ha il doppio pacchetto S-Line, quindi sia interno che esterno, quello esterno lo vedete, quello interno andrò a farvelo vedere. Sensori di parcheggio, ruota in lega da 18 pollici, abbiamo luci di urne LED con fare lo xeno. Ora vado a mostrarvi l'interno che si presenta veramente in condizioni splendide, abbiamo i sedili sportivi S-Line con il logo che li puoi identificare. Hanno un rivestimento misto pelle e tessuto tecnico, volante sportivo mozzato, tre razze multifunzione con pedal per il cambio, ve li mostro. Eccoli qua. Vi faccio vedere il chilometraggio, 31.265.000 chilometri, questa splendida ATT. Auto Radio Concert CD con porta USB, quindi potete leggere anche gli MP3. Climatizzatore automatico. Ecco il cambio Stronic che ha sei rapporti. Sistema di antipattinamento, azionamento dello spoilerino. Vi faccio vedere anche il piccolo divano posteriore che può alloggiare due persone di media statura. Diciamo che l'ATT è un bel coupé perché coniuga la sportività anche un ottimo bagagliaio, ma non è sicuramente per questo che verrà acquistata e per la sua linea cattivante sicuramente. Vi ricordo che questa vettura è in pronta consegna, viene garantita 12 mesi. Vi aspetto Gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto in provincia di Brescia per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie.